Se devo dirvi la verità, è passato quasi un mese dall'ultima volta che vi ho portato un unboxing di un paio di scarpe comunque in un video lungo su YouTube e non sempre con i classici shorts, e già sinceramente sentivo la mancanza di mettere le mani. Comunque cosa c'è di meglio di fare un unboxing di una J4? Beh, farlo di due. Quindi tenetevi forte che oggi andiamo ad esaminare le prime due Jordan 4 di quest'anno. Uscite rispettivamente giovedì 9 e sabato 11. Sull'applicazione sneakers e poi comunque le seafoam sono già uscite su Zalando una settimana prima, e in realtà per le craft avevano anche dato degli accessi esclusivi sempre giovedì 9. Però teniamo validi solo i lanci ufficiali che sennò facciamo conclusione. Come al solito, benvenuti a tutti quelli nuovi e bentornati a tutti quelli vecchi. Io sono Marco e ti chiedo subito di lasciarmi un like e di iscriverti al canale per aiutarmi a crescere. Per voi può sembrare nulla, ma per me è una cosa importantissima. Fatelo, perché mi serve sapere in qualche modo se a voi questi contenuti piacciono oppure no, perché se non vi piacciono, che li porto a fare? Prima però di iniziare voglio ringraziare di cuore tutti i ragazzi che dopo lo scorso video, riguardo a quello che feci su come coppare entrambe le Jordan, dandovi così dei consigli piuttosto che qualche link in descrizione per iscrivervi alle raffle, mi hanno scritto in DM ringraziandomi e non avete idea di quanto piacere mi fa ricevere messaggi di questo tipo. Ovviamente ringrazio di cuore anche tutti i ragazzi nel gruppo Discord, però senza perderci in chiacchiere iniziamo subito che ho già capito che questo video lo voglio mandare in cacciara. Quindi, Box OG, la prima Jordan 4 del 2023, classico, logo del Jumpman con sotto la scritta Flight. Uscite giovedì 9 sull'applicazione sneakers di Nike al prezzo di 209€, queste sono le Jordan 4 Sifo. Questo modello, più nello specifico, è un modello da donna e le taglie che sono state rilasciate sono state per l'appunto solo quelle da donna. Negli scorsi mesi si è pensato, e addirittura io ne ero anche abbastanza convinto, del fatto che avrebbero rilasciato le taglie comunque estese. Un po' come è successo per le Jordan 4 Canyon Purple allo Sneakers Day lo scorso agosto. Ciò vuol dire che non escono solo le taglie che banalmente da donna sono dal 35,5 fino al 44,5, ma anche quelle superiori. La colorway è letteralmente uguale a quella delle Jordan 4 Fire Red, solo che al posto dei dettagli rossi, qui li abbiamo verdi. E se non sbaglio l'ultima uscita è stata nel 2020. I materiali non sono chissà che premium, però comunque sono uguali a quasi tutte le Jordan 4 e quindi la qualità è comunque alta. E vorrei dire, pagando 209€ una scarpa retail, mi aspetto che comunque i materiali siano di una buona qualità. Scarpa, a mio parere, bellissima e soprattutto abbinabile, compresso che tutti gli outfit. Dalle notizie che abbiamo adesso ci dovrebbero essere 7 scarpe nell'arco di tutto il 2023 per quanto riguarda il modello Jordan 4, ovviamente, e soprattutto quelle confermate. Poi, se comunque ne dovessero uscire altre, tanto meglio per noi. A mio parere di tutte le colorway che devono uscire quest'anno, questa se la può giocare tranquillamente come la più versatile con le Light Iron Ore. Sentite bene perché già comunque il prossimo mese, ovvero nel mese di marzo, avremo un'altra Jordan 4 e più nello specifico il primo modello SB per questa scarpa, ovvero sto parlando delle Pine Green. Attualmente tutte le taglie, come al solito, sono sold out e il prezzo di resell è a circa 280€. Poi ovviamente dipende da chi le comprate. Però comunque, se vi impegnate un po' su Woundster, ad esempio, le potete trovare tranquillamente anche a un filo di meno. Per il semplice fatto che voi andate direttamente a contattare il privato e quindi potete contrattare il prezzo e abbassarvelo in favore vostro. Adesso però dobbiamo passare a una delle sneakers che ho aspettato per tanti tanti mesi, quindi direi di metterla un attimo via. Ok, ce l'ho fatta, incredibile. Eccola qua, questa invece l'abbiamo nel box speciale con la scritta Flight e al posto di lei abbiamo il Jumpman. Queste sono le Jordan 4 S Craft Photon Dust. Scarpa davvero molto diversa rispetto a quelle precedenti. Uscita sabato 11 come lancio ufficiale, sempre alle 9 del mattino, al prezzo di 10€ superiore, quindi di 219,99€. Per queste abbiamo sia avuto le taglie da uomo, ma anche il modello grade school, ovvero le taglie da ragazzo che vanno dal 35,5€ fino ai 40€. Nel nome troviamo proprio la storia di questa scarpa e soprattutto la campagna marketing fatta da Nike. Abbiamo il nome del modello, ovviamente il Jordan 4, poi SE che starebbe per Special Edition. E poi il nome Craft. L'idea di base dietro ai modelli Craft sarebbe semplicemente che Nike cerca di far sembrare queste scarpe il più possibile create artigianalmente e non meccanicamente. Questa è la prima Craft proprio per il modello Jordan 4. Ovviamente ne sono già state prodotte negli anni, come la 1, la 2, la 5 e poi altre che arriveranno in futuro. I dettagli di questa scarpa sono molto particolari. La cosa che salta subito all'occhio è la retina. In questo caso la troviamo stampata sulla pelle della scarpa, al posto che essere in gomma, come praticamente in tutte le Jordan 4. Per creare questa scarpa sono stati utilizzati molti materiali anche, come la classica pelle che troviamo in tutte le scarpe, il camoscio e poi questo quadratino completamente a caso messo all'esterno di ogni scarpa e non all'interno. Nella parte interna e anche in tutto il dorso della scarpa troviamo la pelle ascrepolata, più o meno come quella per le Lost and Found. Come qualità dei materiali potete benissimo intuire che qui siamo sicuramente a un livello più alto rispetto alle Sifon. E anche sinceramente come comodità di scarpa questa è ancora uno scalino più alto. Ho apprezzato davvero tanto queste diverse colorazioni di grigio che tendono anche un po' all'azzurrino, abbinate con questo bianco crema e anche questo grigio più scuro. Personalmente mi piacciono davvero molto. Ma allora, quale scarpa preferisco e quale scarpa soprattutto vi consiglio? Rullo di tamburi? Sinceramente tra le due se ne dovessi scegliere solo una scelgo la Sifon al 100%. Proprio perché questa è la classica Jordan 4 che davvero nello scorso anno ha fatto impazzire chiunque e credo che il 2023 sarà comunque un anno molto importante per i drop di questa scarpa. Ma se ne dovessi scegliere una da vestire tutti i giorni sicuramente opterei per questa sneaker. La facilità comunque con cui si riesce ad abbinare agli outfit quotidiani è sicuramente un cavallo di battaglia per questa scarpa. Come detto prima, se dovete comprarla da qualche privato che direttamente l'ha acquistata, banalmente che si chiamano i reseller, quindi senza andare direttamente a comprarle in uno store fisico, piuttosto su qualche piattaforma, su Woundster molto probabilmente potrete fare degli affari incredibili. Quindi se le volete, secondo me questo è sicuramente un buonissimo momento per comprarle. Io ragazzi vi ringrazio di cuore per aver visto questo video fino alla fine. Fatemi sapere nei commenti invece quali delle due voi preferite, perché quello che vi ho dato è solo un mio personale parere. Come al solito trovate in descrizione tutti i link dei miei social e vi ricordo che trovate anche il link per entrare nella mia community di Discord così che non vi possiate perdere nessun prossimo lancio di sneakers. E ovviamente se vi doveste iscrivere, mandatemi anche un DM così che vi possa dare il benvenuto. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Come al solito su tutti i social posto ogni giorno, quindi banalmente seguitemi anche su Instagram. Noi ci vediamo martedì con un prossimo video bello lungo su YouTube. Buona giornata a tutti!